Sono Antonio Cerutti, docente di conservativa all'Università degli Studi di Brescia. Da anni mi occupo di ricostruttiva estetica. Il caso che vi presenterò oggi è una risoluzione conservativa estetica di un esito di trauma occorso a un giovane paziente con frattura coronale di due elementi incisivi centrali. L'obiettivo che ci prefiggiamo è il recupero estetico e funzionale degli elementi dentali fratturati attraverso l'utilizzo dei nuovi materiali compositi altamente performanti eseguendo una tecnica ben codificata di stratificazione delle differenti masse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.